Ciao, io sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Benvenuti in questo video. Questo è un tutorial un po' fuori dalle righe. Oggi vedremo infatti un po' di scherzi da poter fare ad un utente Linux. Se volete fare impazzire un vostro conoscente Linuxiano, questo è proprio il video che fa per voi. Vi mostrerò una serie di scherzi, alcuni un po' cattivi, altri meno, da poter fare senza bisogno di installare alcunché. Dovrete semplicemente sedervi davanti al PC della vostra vittima e seguire le istruzioni. Cominciamo. Il primo scherzo consiste nel far credere alla nostra vittima che il PC sia completamente bloccato. Dovremmo effettuare uno screenshot dello schermo del desktop completamente vuoto. Quindi catturiamo la schermata dove abbiamo semplicemente lo sfondo, il wallpaper, le icone eventualmente presenti sul desktop. E il pannello, null'altro. Chiamiamo il file per semplicità scherzo, quindi scherzo.png, salviamo. Ok, dopodiché la buona riuscita di questo scherzo dipende da quanto riuscite a nascondere il fatto che si tratta di una semplice immagine, che si tratta di un visualizzatore di immagini. Adesso vi mostrerò un visualizzatore di immagini che rende molto bene. Si tratta di SXIV. Purtroppo è difficile che sia preinstallato sul PC della vostra vittima, ma ve lo mostro comunque. Basta avviarlo in fullscreen in questo modo e nascondere la barra di stato in questo modo. Dopodiché apriamo il file e lo scherzo è fatto. Se la vittima clicca sulle icone non succede nulla, se clicca sul pannello non succede nulla e col doppio clic ovviamente non succede nemmeno nulla. Ma come vi dicevo, SXIV probabilmente non sarà preinstallato. Ora, qua sono su Linux Mint, quindi vediamo come effettuare la stessa cosa col visualizzatore di immagini predefinito su Linux Mint, ovvero XViewer. Allora, come prima cosa apriamo il file con un doppio clic. Ecco qua XViewer, massimizziamo la finestra, ecco qua. Ma come vedete ancora abbiamo delle cose che ci disturbrano, ad esempio la barra del titolo con scherzo.pg. Vediamo di nasconderla su un sistema con Xorg, quindi il comando che vi mostrerò non funziona su Wayland, ma soltanto su Xorg. Quindi, dobbiamo scrivere xprop, trattino name, poi il nome del file, scherzo.png, poi trattino format, poi underscore motif, underscore wm, underscore hints, 32i, poi trattino set, underscore motif, underscore wm, underscore hints, 2. Vedete, la barra del titolo è scomparsa. Dopodiché vogliamo nascondere anche la barra degli strumenti e la barra di stato. Dopodiché clicchiamo, facciamo un doppio clic sull'immagine e l'immagine va in full screen. E di nuovo, se la vittima clicca sull'icona e non succede nulla, con un doppio clic però avremo di nuovo la barra del menu. Purtroppo non ho un metodo per nascondere la barra di menu su Xviewer. Va bene, questo era il primo scherzo. Passiamo al secondo. Con il secondo scherzo faremo credere alla nostra povera vittima di aver preso un virus. Che bello, un virus su Gno Linux. Simuleremo un virus che va a creare dei file sulla scrivania, sul desktop. Ovviamente la cosa funziona se abbiamo la possibilità di mostrare delle icone sulla scrivania, come in questo caso. Allora, dovete aprire un editor di testo a vostra scelta. Io utilizzerò nano. E andiamo a creare uno script che io chiamerò .scherzo.sh. Sapete, ho cominciato il nome del file con il punto, tanto per nascondere questo file alla vittima. Va bene, quindi cominciamo con questo script. Scriviamo lo shebang, cancelletto, punto esclamativo, slash, bin, slash, bash. Scriveremo uno script bash. E vogliamo un ciclo infinito, un loop infinito. Con while true, punto e virgola do, ok. E poi vogliamo che se sulla scrivania non è presente alcuno di questi file virus, li andiamo a creare. Quindi andiamo con un'istruzione if, punto esclamativo per negare questo controllo. f, per vedere se è presente un file sulla scrivania. Quindi vediamo se sulla scrivania, scrivendo scrivania, ma voi sostituite con desktop, se la directory si chiama desktop. Vediamo se sulla scrivania è presente questo file. Chiamiamolo virus1 e poi diamo un'istensione che non esiste, ad esempio sss. Perfetto, quindi se non viene trovato sulla scrivania questo file, allora lo andremo a creare. Ma non uno solo, ne creiamo 100, no? Andiamo a riempire la scrivania della vittima con questi 100 file che simulano un virus. Come si fa? In questo modo, con la sintassi, parentesi graffa, 1, punto, punto, 100 e chiudiamo parentesi graffa. L'estensione era sss, perfetto, fatto. Chiudiamo l'istruzione fi, if con fi, e poi direi di, siccome questo ciclo verrà effettuato di continuo, senza pausa, direi di mettere una pausa, ad esempio slip4, tanto per avere un po' di suspense. Quando la nostra povera vittima andrà a cancellare i file, passerà qualche secondo e poi di nuovo verranno ricreati quei file. Chiudiamo il ciclo while con done, ok? Salviamo il file. Diamo i permessi di esecuzione con chmod più x. E' il nome del file. Ok, dopodiché dovremo avviare questo script, dovremo eseguire questo script, ma io direi di non eseguirlo direttamente dal terminale. Allora, su Linux Mint, ad esempio, potete premere alt più f2 e vi dirà inserisci un comando. Quindi voi andate con punto slash, punto, avevamo scritto, scherzo, punto sh. Boom, ecco creati questi 100 virus. Allora, la vittima proverà a cancellare alcuni di questi file, non succede nulla, abbiamo ancora questi file, ma appena cancellerà il file virus1, ecco, boom, riecco questi 100 file. Allora, lì cancellerà di nuovo, alcuni secondi, un po' di suspense, e boom, ecco di nuovo questi file. Va bene, avete capito come lo scherzo funziona, adesso vi dico come ritornare alla normalità, come stoppare il tutto. Ovviamente se facciamo un riavvio del sistema, lo script non è più in esecuzione, quindi abbiamo già risolto il problema. Oppure, dobbiamo andare a killare questo processo, perché il ciclo è un ciclo infinito. Quindi andiamo con psAUX, grep, scherzo, ecco, come vedete la prima riga è il processo in questione. Con questo id, questo è l'id del processo, 23725, andiamo a killarlo. Quindi andiamo con kill, trattino 9, e l'id del processo, il numero del processo. Boom. Ok, abbiamo già killato il processo. A questo punto, se andiamo a cancellare tutti questi file, non succederà più nulla. Perfetto. Terzo scherzo, molto molto cattivo. Prima di effettuarlo, assicuratevi che la vittima non riavvii o spenga il PC, altrimenti sono problemi grossi, e assicuratevi che sia preinstallato un file manager visuale. Sicuramente questo è il caso per la maggior parte delle distribuzioni. Il file manager ci permetterà di ripristinare la situazione che avevamo prima di effettuare questo scherzo. Allora, lo scherzo consiste nel impedire alla vittima di aprire un emulatore di terminale. Come facciamo? Utilizziamo un qualunque editor di testo, io utilizzerò nano, per editare il file bash.rc. Alla fine del file andremo ad inserire un'istruzione exit. Quindi cosa succederà? Ogni qualvolta si proverà ad aprire un emulatore di terminale, l'emulatore di terminale uscirà immediatamente. Impedendo quindi di aprire. Guardate, clicco sull'icona dell'emulatore di terminale e non si apre. Questo scherzo è valido per qualunque emulatore di terminale, perché ogni volta che lo si avvia, andiamo a leggere il file .bash.rc. E là abbiamo un exit. Quindi come vi dicevo, dobbiamo poi tramite un file manager ripristinare la situazione che avevamo. Quindi andiamo sul file bash.rc. togliamo l'exit, salviamo e adesso è possibile riaprire un emulatore di terminale. Eccolo qua. Quindi assicuratevi di poter ripristinare la situazione in questo modo e che la vittima in nessun caso riavvii o spenga il pc. Quarto scherzo. Indovinate un po' qual è l'applicazione che la vostra vittima prima o poi sicuramente aprirà. Ebbene sì, il browser web. Allora, in questo scherzo andremo a sostituire il file desktop, quello utilizzato dai lanciatori per lanciare appunto il browser web, con un nostro. Quindi in questo caso abbiamo Firefox, andrò a copiare il file desktop di default che si trova su slash usr slash share slash applications firefox.desktop e lo copio su .local.share.applications va bene così, se non avete la directory applications ovviamente la create. Dopodiché andiamo ad editare questo file su .local.share.applications.firefox.desktop Ok, quindi abbiamo tutta una serie di linee che lasciamo così e poi andiamo su exec eccolo qua exec firefox questa è la stringa che andiamo a sostituire terminal mettiamo true al posto di false e poi vogliamo visualizzare un messaggio come possiamo fare? Ad esempio, aprendo un emulatore di terminale in questo caso gnome terminal e facendogli eseguire qualcosa facendogli eseguire un ecco hai visto troppi porno il browser ha smesso di funzionare e poi mettiamo uno slip di non lo so, 10 secondi va bene così salviamo ok, proviamo ad avviare firefox boom hai visto troppi porno il browser ha smesso di funzionare quinto scherzo ideale per utenti di nano se sapete che la vostra vittima utilizza come editor di testo nano e non ha idea di come si utilizzi vim o ancora meglio vi questo scherzo è l'ideale dovrete semplicemente inserire da qualche parte un alias ad esempio sul file punto bash rc sì, questa è la migliore soluzione quindi sul file bash rc scegliete una sezione dove magari già abbiamo altri alias e scrivete alias nano uguale vi per farlo proprio cattivo utilizziamo vi vecchio stampo salviamo a questo punto se chiudiamo l'emulatore di terminale ne abbiamo un altro abbiamo questo alias e quindi il malcapitato proverà a utilizzare nano ad esempio nano testo punto txt in realtà si apre vi il poveretto non avrà idea di come utilizzarlo e di come uscire da vi va bene ovviamente potete riguardarvi lo scherzo numero 4 per vedere come modificare un file punto desktop e quindi utilizzare questo scherzetto anche con un editor di testo visuale cioè al posto di utilizzare gedit o qualunque altro editor di testo visuale potete fargli utilizzare vi il poveretto si troverà questa sorpresa e non saprà cosa fare ed eccoci al sesto scherzo questo scherzo consiste nel sostituire il motore di ricerca utilizzato alla vittima o volendo anche qualunque altro sito con un sito a nostra scelta quindi andremo a reindirizzare un sito su un altro o che andiamo a scegliere noi allora io farò l'esempio con google e duck duck go quindi supponiamo che il nostro la nostra vittima utilizza google come motore di ricerca e noi gli insegniamo che andrebbe utilizzato un altro motore di ricerca appunto duck duck go voi fate non dovete seguire questo esempio potete utilizzare qualunque altro sito allora come si fa andiamo ad editare il file slash etc slash hosts ok a questo punto dobbiamo andare ad inserire l'indirizzo ip del sito a cui vogliamo puntare l'indirizzo ip di duck duck go è 40.114.177.156 e a questo punto andiamo a scrivere il dominio ad esempio google.com quindi ogni volta che la nostra vittima andrà a scrivere google.com non si vedrà aprire il sito di google ma piuttosto quello di duck duck go andiamo a vedere apriamo firefox scriviamo google.com ed ecco che si è aperto il sito di duck duck go voi potete farlo a modo vostro potete mettere qualche sito di scherzi qualche sito falso fate un po' voi divertitevi settimo scherzo immaginate che la vostra vittima voglia spostarsi sul terminale da una directory all'altra del file system ad esempio che voglia effettuare un cd musica per spostarsi sulla directory musica oppure cd immagini per spostarsi sulla directory immagini adesso immaginate che qualunque cambio di directory non abbia risultati in quanto rimaniamo sempre bloccati sulla directory home sulla cartella home allora come facciamo andiamo ad editare il file .bush rc ed inseriamo magari alla fine la riga export prompt trattino basso command uguale cd allora prompt command andrà ad eseguire questo comando appunto cd ogni volta di inserire il prompt prima di inserire il prompt quindi se prima di inserire il prompt facciamo un cd cd senza opzioni ci trasferirà sulla directory home quindi qualunque cosa tu faccia prima di avere un nuovo prompt in questo modo avremo un trasferimento sulla directory home allora vediamo se funziona intanto chiudo il terminale lo riapro adesso scrivo cd musica dovremmo trasferirci sulla cartella musica ma non ci siamo trasferiti vedete possiamo controllare anche con pwd no siamo ancora sulla home scrivo cd immagini e siamo ancora sulla home come vedete qualunque cd facciamo non avrà risultati cd usr share no siamo ancora sulla home quindi la povera vittima penserà che il terminale non funziona più che non funziona più il cambio di una directory ottavo scherzo rimaniamo sul terminale con uno scherzo molto semplice ma comunque di effetto se la vostra vittima passa del tempo su un terminale se ha un terminale aperto a voi basterà avvicinarvi un attimo alla tastiera e premere la combinazione di tasti ctrl s nella configurazione di default la combinazione di tasti ctrl s va a stoppare va a fare pausa nella shell funziona per bash come funziona anche per altre shell come vedete io premo qualunque tasto della tastiera e non vedo alcun effetto premo il tasto invio e non vedo alcun effetto per cui la vittima penserà che si è bloccato il terminale che qualcosa non funzioni per ritornare alla normalità dobbiamo premere la combinazione di tasti ctrl q e come vedete adesso finalmente vediamo tutto ciò che avevo premuto quindi ctrl s per mettere in pausa ctrl q per ritornare alla normalità semplicissimo ma di effetto nono scherzo questo scherzo funzionerà se il pc della nostra vittima ha un lettore cd rom allora apriamo un emulatore di terminale e scriviamo crontab trattino e in questo modo possiamo andare ad inserire un job un cron job se abbiamo cron installato ovviamente e noi faremo che per ogni minuto verrà eseguito un comando quindi abbiamo bisogno di 5 asterischi una per i minuti una per le ore una per i giorni eccetera comunque ogni minuto verrà eseguito questo comando eject trattino t maiuscola e in questo modo si aprirà lo sportello del cd rom dobbiamo prima salvare ovviamente perfetto il nuovo crontab è stato installato e quindi ogni minuto la vittima si verrà ad aprire lo sportello del cd rom decimo e ultimo scherzo che vi propongo sempre da terminale andremo ad evitare che la shell del malcapitato sia in grado di trovare i vari comandi allora ormai avrete imparato che editando il file .bush rc andiamo ad apportare delle modifiche che verranno poi applicate ogni volta che apriamo un emulatore di terminale adesso per brevità eviterò di fare sempre le stesse operazioni scrivo direttamente qua export path uguale e poi un percorso sul file system che non esiste ad esempio così quindi export p a t h uguale è qualcosa di fantasia in questo modo la shell in questo caso bash non sarà in grado di trovare i comandi se il malcapitato volesse utilizzare nano per editare un file guardate che succede comando nano non è stato trovato in realtà ci spiega anche perché ma vabbè proviamo adesso con vim facciamo la stessa cosa vim comando vim non trovato ma può essere installato bene allora proviamo ad installarlo sudo apt install vim comando sudo non è stato trovato nemmeno quindi come vedete tutti i comandi esterni alla shell stessa non verranno trovati è chiaro che se scriviamo dei comandi interni alla shell per esempio cd immagini per spostarci sulla directory immagini questo funzionerà ma tutti i comandi esterni non verranno trovati va bene direi di chiudere il video in questo modo avevo pensato anche ad altri scherzetti tipo a ruotare l'inclinazione dello schermo ma non riesco a farlo su macchina virtuale e è uno scherzo alquanto cattivo che è quello della fork bomb poi ho pensato di non inserirlo in questo video perché con la fork bomb andiamo a mandare veramente nel pallone il pc della vittima lo blocchiamo e non c'è null'altro da fare che spegnere forzatamente il pc va bene spero che questo video vi sia piaciuto che avete imparato comunque qualcosa perché penso che è possibile imparare qualcosa anche da un video del genere e quindi io vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao ciao